E-Brand presenta Casa E-Brand, un weekend che mette in assieme la cultura e la bellezza per un weekend dedicato ai professionisti dell'estetica. Le prenotazioni sono già disponibili sul sito web dell'e-commerce, mentre la prima accoglienza si terrà il 7 e l'8 aprile. E-Brand è un e-commerce, ma non è solo un e-commerce, è un'azienda che da ormai 12 anni si occupa di offrire un'offerta appunto molto ampia al mercato dell'estetica professionale. Sul nostro sito abbiamo più di 5.000 referenze dedicate al mondo dell'estetica, dal monouso alla cere depilatoria, ma tanta tanta cosmetica. È un'azienda che nasce principalmente appunto per questo mercato e siamo stati un po' i pionieri, perché 12 anni fa nel web non era presente un'offerta simile. E soprattutto sono tutti prodotti a marchio nostro che realizziamo grazie alla collaborazione di partner locali, per cui diciamo anche un po' chilometro zero. Cerchiamo di sviluppare insieme anche l'attività imprenditoriale della zona. C'è anche una grande attenzione al mondo green, quindi molta importanza su quello che è il prodotto. Assolutamente, nonostante siano prodotti destinati all'estetica professionale, la filosofia di Brand è sempre stata quella di avere un occhio appunto alle formule. Tutte le formule sono green, cioè vengono utilizzate nei nostri cosmetici solo prodotti di origine naturale e anche di natura biologica certificata, per cui per molti prodotti, per molte linee abbiamo ottenuto anche la certificazione. E questo proprio perché l'obiettivo è stato quello di creare sia prodotti performanti, ma anche con un occhio appunto alla natura e anche all'ecosostenibilità, perché tutti i packaging dei nostri prodotti sono ecosostenibili. Durante il Natale avevamo detto alle imprese del nostro territorio quanto fosse importante Pesaro Capitale della Cultura e quanto le occasioni c'erano e potevano le imprese prendere spunto per poter andare avanti e migliorare, riqualificare e far conoscere anche la nostra città. Bene, questa impresa lo ha capito e ha subito progettato e quindi ci saranno delle persone che verranno qua a Pesaro come clientela, mi parlano di circa 100.000 clienti in tutta Italia, quindi benvenga che arrivano le persone anche come turiste, non solo per il convegno che verrà organizzato dalla stessa azienda, ma potranno visitare la nostra città. Quindi per questo ho ritenuto importante dare il patrocinio come stiamo facendo con altre imprese del nostro territorio che si stanno dando da fare per cercare di valorizzare tutto il progetto che ha fatto il Comune di Pesaro vincendo il bando di Pesaro Capitale della Cultura. Questo weekend pesarese praticamente sarà il palcoscenico per l'invito dei nostri clienti, i nostri clienti sono essenzialmente estetisti, centri estetici, che da tutta Italia verranno a farci visita a Pesaro e saranno ospiti nostri in uno degli hotel della città e avranno così la possibilità nella giornata di domenica di visitare il nostro territorio e di sfruttare l'occasione per visitare mostre e eventi che saranno in programma per questo evento. Il lunedì invece saranno ospiti nella nostra azienda per conoscerci di persona perché noi trattiamo essenzialmente le vendite online, siamo e-commerce, per cui sarà occasione per incontrarci e per appunto confrontarci, è un momento di confronto e di conoscenza con le nostre clienti che in azienda potranno provare i trattamenti, provare a toccare con mano i nuovi prodotti e appunto conoscere il nostro personale.